Un momento di approfondimento sulla parità di genere ad Altamura nella sala Tommaso Fiore del Galterre di Murgia. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna Self Made Woman nell'ambito del progetto regionale attuato dall'associazione Leggere Edizioni. La presidente Anna Ventricelli ha moderato l'incontro con gli interventi di esperti del settore e rappresentanti delle associazioni. Tra i temi discussi l'equilibrio di genere nelle società pubbliche e private, le agevolazioni all'assunzione, è spesso poco note per le donne lavoratrici e per le donne imprenditrici come i fondi a sostegno della maternità perché non rinuncino al lavoro. È stata affrontata anche la questione femminile all'interno del piano nazionale di ripresa. Un cambio di passo sarebbe possibile se l'esili nido fossero un diritto per tutti, garantendo degli orari prolungati al pomeriggio, agevolando lo smart working, prevedendo l'allungamento del servizio scolastico con servizio mensa e attività di dopo scuola, organizzando campi estivi gratuiti attraverso la condivisione dei tempi di cura della famiglia tra i genitori, in conclusione per uno sviluppo sostenibile a ripartire dal fattore donna.